Anticipazioni Il Segreto, martedì 12 novembre 2019 Il Santa Cruz è molto angosciato nell'apprendere che la Guardia Civile ha rinvenuto le sue impronte digitali sui resti dell'ordigno esploso. Prudenzio si mostra inflessibile nei confronti di un suo debitore. Lola è arrabbiata perché pensa che l'Ortega stia testando la sua onestà. Infatti la ragazza trova una manconota da 25 pesetas buttata a terra e nervosa gli chiede se l'ha messa lì per tenderle un tranello. Prudenzio fa tutto il possibile per convincere Lola che il biglietto che ha trovato non era una trappola. Più tardi l'Ortega vede la giovane parlare con un ragazzo e diventa molto geloso. Pertanto le chiede se è il suo fidanzato. Lei risponde di no, era un cliente. Il medico visita accuratamente Mattias e dà istruzioni a Marcella su come comportarsi per non far precipitare la situazione. La prima cosa è abbassare la febbre. Quando il si riprende arriva a Isaac. Piangendo Mattias gli chiede di prendersi cura della sua famiglia se dovesse passare a miglior vita. Il guerrero gli assicura che lo farà, proteggerà sempre Marcella e Camelia. Grazie a tutti.